Ed ecco che arriviamo a voi, care bambine e cari bambini, che di questa giornata siete i veri protagonisti. Sono veramente felice di darvi il benvenuto qui in Senato. I vostri elaborati, le vostre idee sul futuro, sono il frutto di un progetto che vi ha tenuto occupati per tutto l'anno scolastico. Ci è voluto molto impegno da parte vostra, da parte di chi in questo progetto vi ha accompagnato con amore, con passione e soprattutto con grande senso di responsabilità, perché educare non significa soltanto offrirvi gli strumenti per acquisire nuove conoscenze. Educare significa prima di tutto aiutarvi a crescere come individui destinati a vivere all'interno di una comunità, aiutarvi ad acquisire fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità a comprendere il valore di fare scelte consapevoli. Ho particolarmente apprezzato il metodo che avete adottato insieme ai vostri compagni di classe, agli insegnanti e ai vostri genitori, quello del gioco. Il gioco infatti è un veicolo potentissimo per fare leva sulla curiosità e sulla creatività, ma anche per stimolare la condivisione delle idee in modo spontaneo e naturale, così da potervi confrontare tra di voi. Un metodo semplice eppure estremamente efficace per dimostrare come un tema sicuramente complesso, quello della sostenibilità, può essere compreso, può essere affrontato con semplici gesti di responsabilità quotidiana. Tra pochi minuti toccherà a voi venire qui ad esporre le vostre emozioni di fiducia e io sarò qui ad ascoltarvi con la massima attenzione e con la stessa emozione che in questo momento state provando. Perché il vostro impegno deve essere un impegno riconosciuto, premiato e valorizzato. perché la vostra voce è la voce di chi verrà dopo di noi, di chi erediterà il mondo e avete il diritto di raccontarci come vorreste che fosse questo mondo. Una voce che deve ispirare il nostro agire oggi con lo stesso entusiasmo, la stessa passione, lo stesso spirito di responsabilità e di aiuto reciproco che ha ispirato voi. È un dovere che abbiamo verso di voi, come genitori, come educatori, come operatori sociali e come istituzioni. Tim Berners-Lee, uno dei creatori del World Wide Web, ha detto, il futuro è ciò che costruiamo. Impegniamoci quindi a farlo tutti insieme nel modo migliore possibile. Vi ringrazio davvero di cuore, vi ringrazio per quello che oggi voi date a me come a tutti noi qui presenti. Grazie, grazie di cuore.